ciao allora oggi vi voglio parlare di questa crema viso della bottega verde della linea goji perfect allora io avevo una mini taglia da 30 ml e così l'ho provata tutta tutta allora questa dice di essere una crema trattamento viso antietà giorni e notte con spf 15 anti aging ok non dice tanto altro perché non trovo la confezione in carta comunque sia leggo dal sito trattamento anti rughe intensivo 24 ore compro retinola d'estratto di goji spf 15 ve l'ho detto attivatore di perfezione dai 50 anni in su esiste la versione per pelle misto grassa o per pelle da normale a secca prezzo per la confezione 50 ml quindi poco più grande di quelle che avevo io costerebbe 39 99 adesso ad esempio in promozione a 15 e 99 allora se vi ricordate l'avevamo presa assieme in un set della goji perfect per provare un po tutta la linea effettivamente in questo modo con un 30 ml riesco a provarla per mesi tranquillamente visto che l'ho completamente finita vi faccio vedere la texture come si presenta la 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 perché comunque non è invadente sulla pelle ma parliamo della texture perché è una cosa particolare allora intanto anche se dice giorno e sera io l'ho applicata solamente alla sera anche se al fattore di protezione perché di giorno tende a usare soli seri e lo sapete comunque aspettate che vi mostro la confezione ok allora la texture è particolare perché sembra ricca ed effettivamente si stende poco prodotto sul viso perché è bella, sembra ricca, sembra un balsamo, ecco per dirla tutta sembra un balsamo si stende sul viso, si stende bene, un leggero massaggio, il tempo di fare tutto il viso, di picchiettarla è assorbita cioè è fantastica, per il giorno ho paura che con la mia pelle e poi mi trucco tenderebbe un pochino a lucidarmela ma nella sera davvero sento soprattutto in inverno sento davvero che ripara la pelle, la idrata, la nutre se sento che è un po' secca con questa subito si rigenera la uso anche ad esempio dopo le maschere viso perché davvero è fantastica e poi alla mattina non mi sveglio con la pelle unta quindi davvero mi sono trovata benissimo sinceramente è un prodotto che 50 anni in su io ci penserei perché mi sono trovata bene adesso tende a quella sensazione di pelle idratata, nutrita non ho notato particolari miglioramenti però non è neanche peggiorato e quindi questo è sicuramente un lato positivo che non sia peggiorato e poi io con il freddo se ho la pelle che alla sera è un po' screpolata con questa me la rende subito più morbida e poi sento che non tira più e sento la mattina che è idratata, che è nutrita, che è pronta per ricevere il siero e poi il trucco mi sono trovata bene la consiglio in promozione sicuramente non a prezzo pieno ma comunque 40 euro ci possono anche stare ma in promozione tanto Bottega Verde ha sempre le promozioni sicuramente ve la consiglio non esattamente a chi ha più 50 anni perché tranquillamente vi potete trovare bene se dovessi solo fare una puntualizzazione preferirei una crema senza fattori di protezione poi al massimo la protezione la applico io se la voglio per il giorno ma preferirei una crema dato che dice giorno e notte per la notte senza protezione ecco se non ce l'avesse mi troverei ancora meglio sinceramente comunque sia una crema che non posso che consigliarvi mi sono trovata davvero bene e adoro questa cosa che hanno avuto l'idea di fare le mini taglie promozionali così si possono provare tutti i trattamenti senza doverli comprare ottima idea senza doverli comprare nel formato intero fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovate io come sempre spero di avervi stata utile se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!